ciao a tutti amici della bilancia benvenuti nuovi e bentornati gli iscritti io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi chakra creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche per l'amore per la seconda parte di gennaio 2022 come dico sempre sono letture fatte per un collettivo quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo se poi volete avere un messaggio più completo vi consiglio anche di andare ad ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare bene mostrami bilancia grazie la morte bilancia periodo di cambiamenti probabilmente per qualcuno questa morte mi parla di quello che è una rinascita la fine di un ciclo e l'inizio di un qualche cosa di nuovo o magari fa riferimento a un qualche tipo di atteggiamento piuttosto che di situazione che si va a lasciare indietro insomma andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo questa morte qua per voi ok allora abbiamo un 2 di bastoni un 7 di spade l'appeso quindi con il 2 di bastoni sento che si sta parlando di un qualche tipo di progetto in qualche tipo di idea magari che vi è frullata nella testa o vi sta frullando in questo momento nella testa c'è comunque quello che è una voglia di andare avanti ok sento che probabilmente dovuto a questa morte c'è stato un cambio magari un cambio che voi non avevate proprio scelto e qui comunque c'è la voglia di andare avanti sento che si sta cercando quello che è una nuova prospettiva di vita piuttosto che una nuova relazione magari per qualcuno o un nuovo modo di vivere la relazione dentro la quale siete il 7 di spade scusate di bastoni mi parla di quello che è un difendersi dalle energie esterne c'è il serpente nella carta il serpente fa sempre un po riferimento alle male lingue se vogliamo quindi quello che sento che probabilmente queste energie esterne dalle quali vi state cercando di difendere potrebbero essere dei giudizi dei pettegolezzi o un qualche tipo di opinione comunque diversa dalla vostra abbiamo anche l'appeso la carta dell'appeso quindi qui potrebbe parlare di quello che un momento di stasi nel senso che qui c'è l'idea di guardare avanti però a livello pratico in realtà si è fermi in un certo punto l'appeso potrebbe anche fare riferimento a quello che è un nuovo modo di vedere le cose un nuovo modo di vedere la relazione piuttosto che l'altra persona abbiamo poi un 5 di coppe e un 8 di pentacoli il 5 di coppe sento che per certi versi fa riferimento a un qualche tipo di pentimento di rammarico e lotto di pentacoli normalmente è una carta che parla di lavoro quindi per qualcuno potrebbe essere che la persona con la quale siate in una relazione o comunque la persona di vostro interesse includa diciamo nella situazione anche il lavoro per qualcun altro potrebbe fare riferimento a quello che è il lavoro nella relazione andiamo avanti vediamo che altri danno allora abbiamo un 9 di pentacoli quindi il 9 di pentacoli è una bellissima carta wow è un matto 9 di pentacoli una bellissima carta perché una carta che parla di abbondanza una carta che parla di indipendenza insomma mi parla di quello che è lo sfruttare e il godere insomma di quello che si si è conquistato nel corso del tempo la fine della lettura finisce con un matto e sento che è proprio una bella carta nel senso che è un po il fare il salto con fiducia in quello che è la vita la relazione o questo nuovo tipo di progetto di idea di cui si parlava all'inizio della lettura ok per qualcuno potrebbe essere un progetto lavorativo con la persona di interesse andiamo a vedere nello specifico perché c'è questo 2 di bastoni andiamo a vedere se si tratta più di un progetto di un'idea di un nuovo modo di vedere le cose andiamo a vedere per gli amici della bilancia perché abbiamo il 2 di bastoni inizio lettura wow un'altra volta l'appeso e il sole quindi qui io sento che c'è qualcuno guardate il sole e il matto io credo che fondamentalmente abbiano un po la stessa energia genuina di purezza mi verrebbe da dire ok anche un po la stessa energia se vogliamo impulsiva anche sento che con questo due di bastoni l'appeso e il sole qui fa riferimento a quello che è un cambiare come vi posso dire cambiare punto di vista su quello che sono i propri bisogni il sole molte volte fa riferimento a quello che il fanciullo interiore quindi io qui sento che c'è un nuovo modo di percepire questa questo lato di voi insomma come dicevo di bastoni fa riferimento a quello che è il guardare al futuro il progettare il visualizzare anche ok e per certi versi sento che questo modo di fare è ancora un po troppo ingenuo quindi c'è bisogno di riformulare determinati pensieri andiamo a vedere il 7 di bastoni e spiegato da una regina di denari e da un 6 di bastoni probabilmente qualcuno si sta difendendo da questo tipo di energia della regina di denari o potrebbe semplicemente essere che qualcuno sta difendendo la propria posizione quello che ha raggiunto ok adesso ognuno poi l'applichi alla propria realtà però ecco quello che sento e che per certi versi il tipo di posizione che si è raggiunto adatto fa in modo che ci sia quello che è un riconoscimento da parte dell'esterno da parte degli altri quindi o qualcuno sta difendendo a spada tratta diciamo quello che è la sua posizione all'interno di una relazione o di una situazione ok mi può anche parlare di quello che la parte femminile andiamo a vedere perché c'è l'appeso sì per qualcuno quasi tratta proprio di concentrarsi su se stesso o su se stessa c'è proprio questo non farsi influenzare insomma sento che è un energia in questo momento come se stesse 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 combattendo da soli contro tutti allora l'appeso è spiegato da un 5 di pentacoli al contrario e da un 9 di bastoni al contrario in questo caso sento che l'appeso qui mi parla di quello che è una sorta di sofferenza ok il 5 di pentacoli e 9 di bastoni fanno comunque riferimento a quello che è una sorta di delusione che ha creato comunque una paura di essere feriti di nuovo anche se sento che per qualcuno ci si sta un po come posso dire l'appeso ripeto parla di quello che la sofferenza è come se aveste in questo momento una comprensione diversa di quello che è successo ok e iniziasse da iniziaste ad abbassare un pochettino la guardia nonostante comunque ci sia questa sorta di delusione di dolore di cui mi parla il 5 di pentacoli per qualcuno potrebbe parlare di una perdita finanziaria di una perdita magari di un amico magari per qualcuno fa riferimento a quello che è una perdita comunque sento che è una perdita di fiducia anche e per qualcuno con questo sole è un po come se si stesse perdendo l'ingenuità quindi qualcuno qua si sta svegliando diciamo sta vedendo sta prendendo quello che il suo potere personale sta seguendo quello che il suo istinto sento che qui c'è qualcuno che si sente si sente comunque stabile in un tipo di posizione ok sta comunque acquisendo una maggiore autostima una maggiore sicurezza in sé andiamo a a vedere perché abbiamo il 5 di coppe due carte per piacere grazie per il 5 di coppe abbiamo un 2 di pentacoli al contrario l'eremita un 9 di pentacoli e un'altra volta la morte quindi c'è forte questo bisogno di fare questo cambiamento guardate per per certi versi sento che cambierà la vostra indipendenza perché comunque il 9 di pentacoli mi parla di indipendenza l'eremita mi parla di solitudine per qualcuno fa riferimento all'essere single ok e la morte parte di cambiamento di trasformazione quindi potrebbe proprio essere che per qualcuno questa morte rappresenti il passaggio da uno stato single a uno stato di relazione e per qualcun altro invece queste carte mi fanno pensare al fatto che comunque ci sia una sorta di disequilibrio che è quello di cui mi parla il 2 di pentacoli potrebbe essere anche a livello proprio monetario come parlavamo qui la perdita monetaria finanziaria insomma quindi potrebbe anche fare riferimento a quello e giustamente essendoci denari qui ci sono anche i denari qui è un po come se fosse stata intaccata a quello che è la la vostra indipendenza o magari per qualcuno difendendo quello che è la vostra posizione sento che per qualcuno adesso ci sia un po questo partire per la guerra diciamo così per difendere a spada tratta quello che è la propria indipendenza ok quello che è la propria indipendenza economica sento proprio ma da un punto di vista materiale vi faccio presente che abbiamo la regina di denari e il 9 di pentacoli non so se si vede nella carta ma la figura incinta quindi potrebbe essere per qualcuno che ci sia diciamo una gestazione nel mezzo andiamo a vedere lotto di pentacoli per piacere grazie ok allora lotto di pentacoli è spiegato da un due di bastoni e ce l'avevate anche qui e da un quattro di bastoni quindi io sento che qui qualcuno ha una speranza di un qualche tipo di unione di un qualche tipo di celebrazione ok ma è un po come se vi dicessero c'è da lavorarci su o magari quello che sente che qualcuno sta come si dice organizzando il matrimonio proprio perché il quattro di bastoni molte volte fa riferimento a quello che è un matrimonio sento comunque se comunque non fosse il vostro caso il matrimonio fa riferimento comunque a quello che un'unione felice ok e qui abbiamo proprio quello che è la rinascita da una situazione di indipendenza di solitudine quindi potrebbe essere forte il fatto che se siete all'interno di una relazione che questa insomma passi a livello successivo che ci sia una trasformazione appunto all'interno della relazione andiamo a vedere il 9 di pentacoli perché anche il 9 di pentacoli una bellissima carta mi parla di appagamento wow un'altra carta di gravidanza quindi per qualcuno sento che questa diciamo così fine dell'indipendenza potrebbe essere legato al fatto di diventare madre quindi non avere più tanto tempo per se stesse madre o padre di non avere più tanto tempo per se stessi perché comunque c'è un'altra figura da dover accudire insomma se così non fosse abbiamo l'imperatrice il 3 di pentacoli e 7 di pentacoli sento che potrebbe fare riferimento a quello che un progetto mi dà molto la sensazione che sia una casa una convivenza ok però è un po come se si fossero seminati quelli che sono i presupposti per riuscire ad avere quello che il 9 di pentacoli esprime cioè quello che è un appagamento da un punto di vista emotivo un appagamento che insomma che riempie il cuore mi vorrebbe da dire ok l'imperatrice comunque parla sempre di abbondanza parla di bellezza di creazione anche andiamo a vedere il matto perché comunque la vostra stesa finisce o con un colpo di testa o con una rinnovata fiducia in quello che questa situazione questa relazione infatti il 5 di spada al contrario mi parla di quello che è un chiarirsi delle idee un chiarirsi dei pensieri ok quindi sento che si esce magari da questo tipo di di situazione di riflessione di cui mi parlava qui l'appeso e abbiamo un 6 di coppe wow quindi abbiamo un bellissimo 6 di coppe un 4 di bastoni per qualcuno potrebbe essere insomma una persona un'anima gemella per qualcun altro potrebbe fare riferimento al fatto che ci si chiariscano le idee su quelle che sono dei fatti degli avvenimenti del passato si ritrovi quello che la fiducia in quello che la persona la relazione la situazione sento che c'è uno slancio in positivo comunque verso la fine della stesa verso la fine del periodo ok si si dissolvono quelli che sono i pensieri c'è c'è comunque quel cambio di cui mi parla la morte c'è quella trasformazione interiore di cui mi parla la morte insomma bene belle carte comunque andiamo a vedere il conscio e l'inconscio con i tarocchi di osho andiamo a vedere che altri messaggi ci sono per voi io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video se comunque la stesa fino a qui vi è piaciuta potete iscrivervi se non l'avete ancora fatto e potete condividere se poi volete delle consulenze personali con me trovate la mail sotto la descrizione di ogni video e nelle info del canale beh due carte per gli amici della bilancia per piacere grazie wow il fulmine quindi cambi o sì o sì questa morte arriva e essere ordinari allora io credo che voi vi rendiate conto del fatto che c'è bisogno di cambiare fortemente in modo drastico un qualche tipo di situazione magari all'interno di una relazione o un progetto insomma c'è da fare un cambio normalmente la torre parla di quello che è la caduta dell'ego quindi fate attenzione all'egoismo a quello che sono i vostri diciamo desideri egoici ok e penso che per qualcuno ci si sia proprio rendendo conto di questo del di questo lato insomma che si ha io credo che per qualcuno stia arrivando quello che è una una rinascita da un punto di vista spirituale lasciando indietro quello che è l'ego quello che è il proprio io voglio e poi quello che è inconscio è l'essere ordinari cioè quello di cui vi parlano le carte e che probabilmente c'è un qualche sorta di routine un qualche sorta di abitudine ok che vi rende sicuri che vi fa stare al sicuro e questo diciamo che forse lo sottovalutato un pochettino ecco oppure non lo vedete potrebbe essere anche una cosa che magari non state prendendo in considerazione ok bene andiamo a vedere un messaggio in chiusura da parte degli angeli del cuore una carta per gli amici della bilancia per piacere grazie dipendenza reciproca wow ecco allora quello che vi dà sicurezza situazione di dipendenza stanno condizionando la tua vita sentimentale quindi fate attenzione a quello che sono le dipendenze cioè a voler l'altro per un bisogno egoico per un bisogno personale piuttosto che per una questione di amore ok se non avesse nessuno questa dipendenza reciproca potrebbe fare riferimento al vostro tipo di attitudine all'interno di una relazione dove la carta dice che è come se dice se fai attenzione perché hai la tendenza a diventare dipendente dall'altra persona quindi pensateci e fate un lavoro su quello che è l'ego ok bene cari amici della bilancia questo è quello che ho per voi io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile e ringrazio tantissimo per il tempo che avete trascorso qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao